Rieccoci come potete vedere quest'oggi con due mazzi, ossia i Knights Templar Tarot e gli oracoli degli angeli del cuore di Jorin Virtu. Allora, che cosa andremo a chiedere quest'oggi a questo meraviglioso mazzo? Vogliamo cercare di capire come l'uomo con il quale avete appunto una storia clandestina vivrà appunto le prossime e ormai direi imminenti vacanze e comunque festività pasquali con appunto la compagna ufficiale. Compagna ufficiale che appunto può essere una moglie, può essere una compagna, può essere appunto una donna con la quale appunto convive piuttosto che una fidanzata. Dunque una persona che comunque ha già al suo fianco qualcuno che obiettivamente è impegnato e ovviamente poi andremo comunque anche grazie all'aiuto degli angeli del cuore e cercare appunto di capire che cosa appunto ci specificano di questa situazione. Ovviamente però io, come avrete anche già letto dal titolo, non mi occuperò soltanto di come lui vivrà questi giorni con la compagna ufficiale ma ovviamente anche di come chiaramente li vivrà con voi. Di conseguenza farò una doppia stesa e la disporrò con il metodo delle cinque carte, ossia appunto il metodo del pentacolo che io ho già utilizzato qualche volta appunto sul canale. È un metodo direi piuttosto veloce ma comunque a mio avviso molto significativo soprattutto perché analizza alcuni dati del presente, quindi il presente odierno e in particolar modo gli ostacoli, dà un consiglio su come poter eventualmente superare questi ostacoli e infine appunto due carte in riferimento al futuro. Quindi un futuro più prossimo, più imminente ed un futuro un po' più lontano ovviamente nel tempo. Una stesa di questo genere dunque la effettuerò sia per quanto riguarda appunto lui e la compagna ufficiale sia appunto per quanto riguarda invece il vostro rapporto cioè se in questi giorni comunque vi contatterà, magari vorrà vedervi o potenzialmente se invece come più plausibile possa invece ridurre le comunicazioni con voi e anche per esempio il vedervi. Comunque andremo a chiedere tutto effettivamente di questa situazione. D'accordo? Come vedete ovviamente io ho utilizzato un'altra inquadratura ma perché chiaramente il metodo del pentacolo è già di per sé piuttosto dispendioso in quanto ha obiettivamente spazio sul tavolo della stesa. In più appunto ne avremo due, di conseguenza è chiaro che avremo ben dieci carte perciò lo spazio di cui si necessiterà sarà abbastanza impegnativo. In più avremo anche gli oracoli, come vedete obiettivamente non sono proprio carte di piccole dimensioni. Di conseguenza cercherò ragazzi di fare di tutto il possibile per ovviamente farci stare tutto in questa immagine, l'immagine che ovviamente voi avete. Poi eventualmente, chiaramente sapete che io vi faccio comunque vedere sempre in primo piano le singole carte nel caso in cui siano un po' lontane rispetto alla telecamera. Allora, momentaneamente e solo momentaneamente allontaniamo il mazzo appunto degli oracoli che metterò in questa posizione momentaneamente, dietro appunto al cofanetto che contiene appunto i tarocchi e andiamo ad utilizzare appunto i nostri arcani, quindi arcani maggiori e minori, questo meraviglioso mazzo che invece ho già utilizzato diverse volte appunto sul canale. Allora, cerchiamo dunque di chiedere a queste carte, di cui se volete ragazzi io vi lascio sempre il link in descrizione di un mio video precedente in cui appunto do una descrizione piuttosto dettagliata di questo mazzo particolare appunto in exemplar tarot e dunque appunto chiediamo per il principio di sincronicità, quindi per chiunque di voi incappi in questo video e in questa stesa, ovviamente iniziamo, quindi focus, su come questa persona si comporterà nelle prossime festività appunto pasquali con la compagna ufficiale. Quindi ovviamente come trascorrerà i prossimi giorni, le prossime settimane, dunque che eventualmente risvolti avranno in riferimento al suo futuro con questa donna. Quindi iniziamo ovviamente da come lui agirà nei confronti di questa donna e ovviamente di come vivrà queste giornate, quindi chiaramente il suo stato d'animo e vediamo anche se ci saranno degli ostacoli in particolare tra di loro e di che tipo ovviamente di ostacoli stiamo parlando in riferimento a questa coppia. D'accordo? Quindi un uomo con il quale voi avete ovviamente una relazione chiaramente segreta e ovviamente per appunto ovvie ragioni nascosta. Vediamo un po' dunque come questa persona per il principio di sincronicità appunto si comporterà durante appunto queste festività ormai imminenti di Pasqua con la sua compagna, evidentemente anche con amici piuttosto che con parenti. Vediamo un po' come vivrà l'ambiente familiare e casalingo questa persona. Vediamo un po' con appunto la compagna ufficiale che può essere moglie, madre anche dei suoi figli, perché no? Oppure appunto convivente piuttosto che una fidanzata. Vediamo un po'. Allora Perfetto. Allora, io allontano anche in questo caso il mazzo. Iniziamo dunque dalla prima posizione, ossia appunto il presente tra quest'uomo e questa donna. Poi appunto procederò in seconda posizione con quelli che sono appunto gli ostacoli tra lui e questa donna. Come potrebbero agire per in qualche modo superare questi ostacoli? Il futuro più imminente ed infine qua in alto il futuro più lontano. Ovviamente ragazzi, quando parlo di futuro io mi riferisco sempre anche al di là delle tempistiche che noi decidiamo per la stesa e va benissimo, ma anche sempre e comunque ovviamente alle tempistiche identificate dall'arcano, perché voi sapete che ogni arcano maggiore ma anche ogni arcano minore ha le proprie tempistiche, ovviamente da un punto di vista appunto temporale per quanto riguarda mesi, giorni e ovviamente addirittura anche anni. Di conseguenza chiaramente il futuro in base, vi ripeto, alle tempistiche primariamente identificate dall'arcano e poi ovviamente logicamente identificate dalle varie posizioni nella stesa. Allora, vediamo un po' appunto in questa posizione che carte abbiamo e qui abbiamo ragazzi l'otto di coppe che parla direi, guardate, direi che parla già da sé questa carta. Allora, l'otto di coppe ci parla di sentimenti che non ci sono più, ci parla di abbandono, ci parla di chiaramente una persona che si sente profondamente sola, ci parla di una persona che, carta di grado 8, ha preso consapevolezza del fatto che il suo futuro è da un'altra parte. In questo caso appunto abbiamo questo soldato che obiettivamente sta cercando di raggiungere comunque appunto la sua imbarcazione per poter raggiungere, vedete appunto, nuovi lidi dove obiettivamente lo aspetta sicuramente un'atmosfera decisamente molto più serena. Dunque, è chiaro che in questo caso tra quest'uomo e questa donna non c'è più assolutamente nulla. L'otto di coppe, vi ripeto, ci parla di consapevolezza, ci parla comunque anche forse di un esserselo detti. Un esserselo detti o da un punto di vista verbale, quindi comunicativo, tra noi finita, oppure semplicemente mostrato attraverso dei comportamenti. Generalmente il dirselo in maniera aperta è identificato dall'otto di spade. L'otto di coppe ci parla molto di più di comportamenti che fanno ovviamente intuire, ma non credo ci voglia molto, all'altra persona che è finita. D'accordo? Quindi l'otto di coppe ovviamente è una carta piuttosto dura, nonostante possa essere una carta di coppe, per cui contrariamente tutti pensano che le carte di coppe rappresentino sempre gioia, felicità e successo. Niente di più falso, perché chiaramente l'otto di coppe, il quattro di coppe, il cinque di coppe, sono sicuramente delle carte molto pesanti, anche da un punto di vista ovviamente sentimentale, e che ci parlano sicuramente di rapporti ormai sfilacciati, finiti, tradimenti, bugie e menzogne. In questo caso un allontanamento vero e proprio. Allora, l'otto di coppe ci può però anche parlare di un vero e proprio allontanamento, cioè queste persone potrebbero in questo momento, perché ragazzi questa è la posizione del presente, o comunque anche entro pochi giorni, giorni, ma proprio pochi giorni, anche avere uno scontro diciamo verbale o comunque emotivo piuttosto importante, per cui potrebbero arrivare ad un punto di svolta, perché vi ripeto è una carta di grado 8, che come tutte le carte 8, 9 e 10 ci parlano appunto di un momento importante che porta al cambiamento di un ciclo per iniziarne uno completamente nuovo. Quindi l'otto di coppe ci parla di una persona che vi ripeto già da tempo però abitivamente è stanca, perché chiaramente ha fatto tutto il percorso del bagatto, quindi iniziamo dalle primissime carte, quindi dalla carta numero 1 per arrivare in questo caso alla carta numero 8, quindi questa persona molto probabilmente inizialmente era innamorata della compagna, d'accordo, quindi era una persona presa, coinvolta nell'ambito del rapporto e evidentemente anche convinta forse proprio della riuscita di questo rapporto, ma poi la situazione ha preso una piega fortemente negativa, quindi una piega che ha portato ad oggi questa persona a rendersi conto che obiettivamente tra lui e lei non c'è più assolutamente nulla. Quindi diciamo che l'otto di coppe è una carta che guarda anche un po' avanti diciamo nel tempo, perché vi ripeto non si esclude proprio a breve, entro pochi giorni, proprio la nascita anche un po' improvvisa di una situazione un po' difficile, un momento di fallimento, di irrequitezza, incompatibilità caratteriale, brutte notizie, sorprese sgradite, rivalità anche tra lui e lei, falsità vi ripeto, menzogne, quindi non è e non sarà un momento particolarmente favorevole. Partiamo ovviamente però ragazzi già da una carta negativa tra queste due persone, perché ovviamente voi sapete che la prima carta che apre una stesa spiega tutte le altre, a sua volta ne è spiegata, è fondamentale, è come dico sempre io il soggetto di una frase, che è ovviamente necessario e difficilmente intuibile in alcuni casi, d'accordo? Quindi la situazione non è già di per sé serena, ma qui non c'è più amore, cioè il problema reale tra queste due persone non è un problema economico, non è un problema per esempio caso abbiano dei figli, gestione della quotidianità, famiglie di origine, no qui mancano i sentimenti, l'otto di coppe parla di un amore che non c'è più, d'accordo? Quindi chiaramente ci parla anche di gelosia, tra queste due persone c'è sempre stata molta gelosia, ma perché? Perché l'otto di coppe ci parla di solito di doppia relazione, quindi due situazioni stabili, otto è dato da quattro più quattro, quindi due situazioni stabili sentimentali portate avanti probabilmente da lungo tempo e per lungo tempo, ma quindi come una sorta di doppia relazione. Quindi è chiaro che questa persona ha vissuto da sempre una doppia relazione, probabilmente magari prima di conoscere voi ha già avuto delle altre simpatie, oppure lei ha altrettanto un'altra persona o ha vissuto in passato comunque un'altra relazione. Cioè queste due persone ragazzi si sono sempre traditi, tra di loro ci sono sempre state, vi ripeto, gelosie, menzogne, dubbi, frustrazioni, delusioni, cioè i progetti, vi ripeto, che c'erano tra loro due e nei quali magari credevano, si sono accorti che obiettivamente ormai non esistono più e che forse è più giusto interrompere l'ostinazione del voler per forza stare insieme a tutti i costi. Cioè l'otto ci parla di accettazione, ci parla, vi ripeto, di riflessione, come vi ho detto a inizio stesa. Cioè queste due persone hanno capito consapevolmente che tra di loro non c'è più niente e quindi ci parla di doppia relazione, ma dunque anche dell'essere arrivati a fare quel salto in più, quindi capire che obiettivamente tra di loro forse c'è stata proprio e c'è proprio la necessità di imporre un reale cambiamento. Quindi una situazione difficile da non sottovalutare, ma vi dirò ragazzi che queste due persone però non sottovaluteranno, perché comunque non sono due persone che decideranno di vivere comunque i prossimi giorni in maniera totalmente serena, cioè mostreranno la loro infelicità. Queste due persone per fortuna se ne renderanno conto, quindi non agiranno in maniera inconsapevole. Questo assolutamente no. E già direi che siamo ad un passo importante, prendere coscienza di quello che non c'è più direi che è un momento fondamentale nella vita di un individuo, sia in termini di maturazione personale, ma che è anche di progettualità fattuale. Allora, vediamo un po' in questa posizione i reali ostacoli o altri ostacoli che potrebbero appunto esserci tra lui e questa donna. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo la carta dell'imperatrice. Allora ragazzi, l'imperatrice in questo caso è l'altra donna, cioè voi. Perfetto. Allora, è chiaro che nel momento in cui voi siete entrate a far parte della vita di quest'uomo, questo non per caricarvi ovviamente di responsabilità o sensi di colpa, però obiettivamente, voi siete sicuramente entrate a far parte della vita di quest'uomo in maniera molto importante e intensa. D'accordo? Perché voi che cosa rappresentate in questo caso? Rappresentate, l'imperatrice rappresenta la bellezza, la giovinezza, rappresenta la freschezza, rappresenta l'attrazione, la passione, rappresenta l'intelligenza, la comunicatività. L'imperatrice in questo caso rappresenta tutto ciò che la compagna ufficiale non ha. Quindi voi potreste essere esteticamente molto più piacenti della compagna ufficiale, potreste essere anche graficamente più giovani, potreste essere delle donne di successo, delle donne intelligenti, con una vostra posizione sociale ovviamente già ben definita rispetto alla compagna ufficiale. Quindi è chiaro che in questo caso la carta dell'imperatrice ci parla di una situazione che chiaramente prevede un innamoramento folle. Cioè questa persona per voi ha perso la testa, cioè questa persona per voi ovviamente ha provato sin da subito un sentimento molto forte, molto importante, travolgente e quindi questa persona fa fatica ormai a vivere il rapporto con la compagna senza una sorta di comparazione tra quello che siete voi e quello che è lei. È chiaro che questo uomo sta facendo dei paragoni, quindi è come se in questo momento stesse mettendo sul piatto della bilancia voi e lei ed è chiaro che voi avete un peso nettamente maggiore. Cioè questo uomo non è solo attratto perché è vero, l'imperatrice ci parla di sessualità, ci parla di erotismo, di bellezza, ma non è solo una questione di attrazione fisica perché vi ripeto l'imperatrice è una persona bella ma anche comunicativa, è una persona intelligente, è una persona geniale, è una persona allegra, è una persona di spirito, è una persona sagace, è una persona che sa essere ironica, è una persona che sa coinvolgere. Quindi voi siete riuscite a coinvolgere questa persona e a portare nella sua vita una nuova progettualità. Vedete l'imperatrice solitamente gravida o ha già avuto un bambino. Quindi voi rappresentate per quest'uomo la voglia di ricominciare un qualcosa di nuovo nella sua vita che dia, vedete, fiori, che gli permetta di ricominciare tutto da capo, un nuovo amore, una nuova storia. Rappresentate anche la donna fedele, la donna pulita perché in questo caso l'imperatrice ovviamente in accezione positiva rappresenta la donna comunque che ama, la donna empatica, la donna che comunque sa anche sacrificarsi per amore e a mio avviso comunque voi vi state sacrificando per amore di quest'uomo perché state aspettando. Quindi è chiaro che questa persona vi vede come una donna completa, cioè la donna che ha tutto quello che un uomo potrebbe desiderare. Quindi non solo da un punto di vista fisico ma anche morale e mentale, dolcezza, lealtà, tenerezza, passione, un fuoco dentro importante. Quindi siete sicuramente una persona molto significativa per lui che lui ovviamente ammira perché quest'uomo non è solo innamorato di voi, non è solo attratto da voi ma vi ammira. Quindi vede con voi un percorso di progresso, una certezza, uno sviluppo che vuole come trionfo. L'imperatrice vedete è il trionfo della femminilità. D'accordo? Ma soprattutto quello che lo attrae è il vostro modo anche di parlare perché l'imperatrice ci parla di comunicazione, vi ripeto, colloqui, lettere, notizie. A questa persona piace molto il vostro modo di esprimervi. Tra l'altro è legata ovviamente l'imperatrice al segno della vergine e dei gemelli che sono ovviamente grandi comunicatori, in particolar modo i gemelli appunto retti proprio da mercurio. Quindi in realtà questa persona apprezza moltissimo il fatto che obiettivamente voi siate una donna che esprime tutto quello che pensa e prova da un punto di vista colloquiale. Quindi evidentemente siete molto più aperte della compagna che evidentemente di sé racconta troppo poco ma ve l'ho detto che ci sono troppi segreti tra loro due. Quindi obiettivamente, prestatemi diciamo la definizione, quello che non va tra loro due innanzitutto è stato proprio ed è proprio la vostra presenza, cioè è stato il vostro arrivo nella sua vita. Voi avete in qualche modo sancito la chiusura definitiva di questa storia perché questa persona conoscendo voi ha semplicemente capito cosa vuole. È chiaro che questa persona conoscendo voi per come voi siete fatte esattamente così come siete voi rappresentate la sua donna ideale e quindi ovviamente lui si sta facendo quattro domande no? Cioè è ovvio che voi state spiccando notevolmente in alto rispetto all'altra compagna che ormai decisamente non esiste più. Quindi obiettivamente il vostro arrivo nella loro vita, nella vita di lui ovviamente, ha fatto proprio da sparti acqua. Quindi ha fatto capire a quest'uomo effettivamente cosa vuole, cosa lo soddisfa, cosa fa per lui, cosa lo fa star bene, cosa potrebbe renderlo realmente felice e questa cosa siete voi. Proprio con le vostre caratteristiche, in tutto e per tutto, questa persona non desidera altro, siete voi quello che questa persona vuole. D'accordo? Allora adesso in questa posizione invece in terza posizione cerchiamo di capire come potrebbero fare queste due persone per chiaramente cercare di vivere se non altro i prossimi giorni con una certa serenità anche se ovviamente ragazzi venendomi l'imperatrice in questo caso in questi giorni questo uomo avrà voi in testa quindi ecco perché sicuramente tutta questa freddezza e questi possibili litigi tra di loro perché evidentemente lui sarà molto più nervoso e frustrato per il fatto di non potervi stare vicino. Di conseguenza ovviamente si sentirà molto più frustrato, più nervoso e raffredderà a maggior ragione ancora di più i propri rapporti ovviamente nei confronti della compagna ma perché penserà tanto a voi? Tra l'altro vi ripeto l'imperatrice ci parla appunto di comunicazioni quindi questa persona ha voglia di sentirvi e comunicazioni anche molto veloci perché l'imperatrice ci parla proprio di tempistiche rapidissime entro qualche giorno al massimo qualche settimana ma questa persona voglia di sentirvi per vedervi perché chiaramente l'imperatrice ovviamente vi ripeto parla di comunque un'unione fisica carnale che questa persona spera di avere al più presto con voi d'accordo quindi sarà comunque una comunicazione in virtù di un potervi vedere questo è chiaro ma penso che voi lo immaginate. Allora dunque vediamo in questa posizione come potrebbero fare queste due persone per cercare diciamo di vivere al meglio se non altro queste giornate obbligate assieme. Vediamo un po' e qui abbiamo il paggio di bastoni. Allora nel caso in cui queste due persone abbiano un figlio o anche più di uno perché no il paggio di bastoni ci parla della necessità di occuparsi di figli quindi potrebbero comunque in qualche modo cercare di andare diciamo d'accordo il più possibile dedicando la propria attenzione non al loro rapporto di coppia ma al loro essere genitori quindi cercando momentaneamente di non guardare l'uno o l'altra vicendevolmente ma di dedicare tutti i loro sguardi i loro sforzi al figlio o alla figlia o ai figli nel caso in cui ne abbiano più di uno perché il paggio di bastoni può rappresentare proprio qualcuno di piccolo quindi un bambino oppure nel caso in cui per esempio vengano raggiunti da dei parenti il paggio di bastoni potrebbe rappresentare un nipote ma comunque qualcuno a cui vogliono e lui in particolare vuole molto bene quindi ovviamente dovranno in qualche modo cercare di mantenere il più possibile un clima di serenità bastoni in virtù di questo bambino o di questi bambini nel caso in cui non abbiano figli vi ripeto potrebbero o concentrare l'attenzione per esempio su dei nipoti oppure potrebbero in qualche modo decidere di comunicare perché i fanti rappresentano anche delle comunicazioni il più possibile ovviamente chiare trasparenti pulite limpide indolori come appunto è tipico dei bastoni quindi senza raccontarsi menzogne non è un 2 di spade ok senza cercare di nascondersi qualcosa non è un 7 di spade senza cercare di in qualche modo imbrogliare l'altro per diciamo per esempio riuscire a sentire voi di nascosto non è un 5 di spade quindi dovrebbero evitare di avere dei comportamenti di sotterfugio dovrebbero cercare di purtroppo ahimè magari anche mettere momentaneamente da parte il rapporto e quello che pensano e provano magari per voi lui per voi e a mio avviso a questo punto anche lei per un altro eventuale compagno che possa frequentare perché vi ripeto che secondo me anche lei potrebbe avere qualche altra simpatia altrove quindi dovrebbero cercare di momentaneamente mettere da parte i sentimenti per l'altra persona che stanno frequentando appunto di nascosto per concentrarsi o su questo figlio su questi figli oppure sull'avere più possibile una comunicazione chiara pulita onesta come tipico appunto dei bastoni quindi senza raccontarsi troppe frottole ma probabilmente è arrivato il momento realmente di chiarire perché il fante di bastoni ci parla di dichiarazioni parole volte comunque non ad una riconciliazione non è un due di coppe ma parole volte comunque a mantenere una certa serenità e calma se non altro parliamo però vi ripeto di bastoni quindi potrebbero fare un piccolo viaggio uno spostamento potrebbe essere un viaggio di un giorno due giorni un weekend che potrebbe in qualche modo alleggerire momentaneamente le tensioni parliamo di un paggio quindi tempi brevi situazioni di breve durata e di breve valore quindi sicuramente nel momento in cui queste due persone poi ritorneranno nel proprio ambiente quotidiano ritroveranno tutto l'assio la rivalità le incomprensioni che obiettivamente li contraddistinguono ma con questo paggio una sorta di consiglio che ovviamente gli viene dato dagli arcani è di concentrarsi ovviamente in particolar modo vi ripeto o sui propri figli oppure su una comunicazione chiara e diretta quindi senza sotterfugi senza cercare di acuire le frustrazioni a cui loro sono già sottoposti magari vi ripeto anche rischiando di mettere da parte per esempio lui voi ma non da parte semplicemente tra parentesi nei prossimi giorni cioè evitando di avere voi come un chiodo fisso in modo da non sentirse ovviamente troppo frustrato e quindi non entrare in questa sorta di loop di disperazione che lo rende sempre più nervoso e incattivito nei confronti della compagna ufficiale quindi dovrebbe cercare anche di fare un lavoro sui suoi stessi pensieri non è semplice sicuramente questo è poco ma sicuro oppure vi ripeto fare una piccola vi ripeto gita fuori porta che potrebbe svagare un po la mente non riportare alla riconciliazione perché qui non c'è riconciliazione attenzione ragazzi non c'è proprio possibilità però obiettivamente almeno per cercare di stemperare un po le tensioni vediamo a questo punto il prossimo futuro quindi i prossimi giorni il futuro più immediato che cosa accadrà tra lui e questa donna quindi i prossimi giorni festivi veri e propri mamma mia qui abbiamo il quattro di spade allora il quattro di spade è una carta brutta è una carta brutta perché ci parla sicuramente anche probabilmente di malattia quindi salute psicofisica non proprio al top guardate appunto qui abbiamo questo soldato che ha combattuto tanto è molto stanco il quattro di spade ragazzi arriva direttamente da un tre di spade che ci parla chiaramente di una grossa insoddisfazione di una presa di posizione di una frustrazione di un dolore dell'aver preso coscienza della fine di un qualcosa ecco qua l'otto di coppe di cui vi parlavo all'inizio e ovviamente questa persona si rende conto che chiaramente tra lui e questa donna è tutto finito e obiettivamente il suo umore non può essere quello di chi si accinge a festeggiare un qualcosa assolutamente no perché il quattro di spade ci parla di un umore davvero molto basso ci parla di preoccupazioni ci parla di comunque vi ripeto una consapevolezza amara però che fa male ci parla comunque di un distacco dalla realtà e anche dal bisogno di isolarsi perché il quattro di spade generalmente ci parla proprio di isolamento in questo caso vedete qui abbiamo appunto un soldato che come potete vedere appunto è isolato rispetto al resto in questo letto in questo giaciglio ovviamente ferito e stanco è una persona che ha bisogno vedete di prendersi del tempo anche proprio in solitudine per poter appunto vivere la propria quotidianità cercando di concentrare la propria attenzione su una maggiore progettualità in riferimento al futuro perché il quattro di spade ci parla proprio di un momento di stand by necessario di un anche congelamento delle proprie forze e della propria attività pratica proprio per cercare obiettivamente di vivere chiaramente questa situazione in miglior modo possibile in riferimento ovviamente al futuro perché vi ripeto ve lo dicevo anche all'inizio con quest'otto di coppe che questa persona ovviamente ha capito che deve allontanarsi dalla situazione odierna per invece solcare di nuovo i mari e ovviamente arrivare ad una nuova destinazione quindi è chiaro che questa persona è assolutamente certa e consapevole che tra lui e questa donna è finita e che obiettivamente deve dovrà intraprendere una nuova strada che però sarà particolarmente difficile qual è la carta successiva al quattro di spade il 5 di spade che obiettivamente è una delle carte più pesanti dell'intero mazzo di tutti i 78 arcani maggiori minori perché il 5 di spade ci parla di una conflittualità pesante e molto dolorosa soprattutto con le persone che ci circondano quindi questa persona sa che dovrà ovviamente combattere in maniera molto aspra con dei nemici davvero potenti e forti quindi questa persona sa già che obiettivamente nel caso in cui decida di allontanarsi dalla compagna ufficiale soprattutto nel caso in cui si venga in qualche modo a scoprire a sapere che lui abbia voi comunque un'altra donna che possa essere stata a causa della rottura tra lui e lei è chiaro che la situazione diventerebbe davvero incandescente quindi la compagna diventerebbe davvero molto molto crudele e anche ovviamente l'ambiente familiare perché le carte di grado 5 ci parlano anche dell'ambiente della famiglia d'origine di questa persona quindi anche i parenti di lui potrebbero avversare una loro separazione ma in particolar modo i parenti di lei quindi sa di dover combattere molto questo uomo quindi vi ripeto questa persona è stanca è una persona stanca demotivata che sta pensando al proprio futuro che vorrebbe veramente fuggire via da tutto quello che lo circonda ed è certo una persona che non è nel mood di festeggiamento d'accordo il quattro di spade anzi ci parla di una persona che vorrà isolarsi il più possibile di una persona che probabilmente potrebbe anche non stare bene da un punto di vista fisico è una persona stanca è una persona vi ripeto delusa che sta pensando già al proprio futuro altrove quindi è una persona molto molto consapevole ma triste perché vi ripeto è una consapevolezza amara quindi non saranno dei giorni assolutamente positivi bensì saranno dei giorni di grande riflessione e preoccupazione da parte soprattutto di questa persona perché appunto si renderà conto che chiaramente ciò che lo aspetta sarà particolarmente pesante d'accordo in ultima posizione invece appunto abbiamo il tempo futuro più lontano cioè come dunque questi giorni porteranno ad un cambiamento nel rapporto di questa coppia quindi che cosa accadrà nelle prossime settimane o comunque nelle tempistiche più lontane rispetto appunto ai prossimi giorni quindi alle festività pasquali vediamo un po e qui abbiamo e qui abbiamo l'appeso allora sì tra queste due persone ci sarà un allontanamento tra queste due persone ci sarà sicuramente una presa di posizione nel senso che l'appeso ci parla proprio di un allontanamento ci parla uno stand by ci parla di un allontanamento fisico generalmente quindi queste due persone potrebbero essere distanti per diversi giorni potrebbero prendersi un momento di pausa appunto tipico dell'appeso per poter decidere obiettivamente come poi proseguire procedere nel processo di cambiamento perché l'arcano che ovviamente segue l'appeso è l'arcano senza nome l'arcano della morte che rappresenta il cambiamento completo totale quindi chiudere con il passato per ovviamente riaprirsi al nuovo l'appeso è una carta molto pesante perché ci parla della fine di un rapporto di una separazione vi ripeto di un allontanamento ci parla di ovviamente un legame che sicuramente tenderà a sfilacciarsi ancora di più e obiettivamente la situazione andrà a diventare sempre più pesante al che chiaramente dopo menzogne inganni intrighi tradimenti dopo una situazione appunto troppo ambigua ambivalente dopo questo continuo temporeggiare ciondolare su mai una posizione definitiva qui la decisione definitiva dovrà essere presa d'accordo a seguito di un momento di vi ripeto allontanamento una pausa un momento di solitudine per cui chiaramente questa persona deciderà sul da farsi e lo farà in maniera direi forse anche un po egoistica nel senso che si prenderà tutto il tempo di cui avrà bisogno proprio perché obiettivamente questa persona è stanca arriverà ad un punto in cui dirà a se stesso e anche questa compagna sai che c'è e ora ormai di decidere ma ve l'avevo già preannunciato con questo quattro di spade e di nuovo purtroppo devo sottolinearvi che tutto ciò che porterà questa persona ad una reale riflessione come tipico dell'appeso è l'amore segreto perché il dodicesimo arcano maggiore rappresenta generalmente un amore segreto nascosto interiorizzato romantico che ovviamente è reso difficile ostacolato dalla situazione unione però a cui ovviamente il soggetto della stesa pensa e che vuole sia duratura proprio perché è costruita su una paziente attesa quindi sicuramente ci sarà una separazione un allontanamento che ovviamente farà capire a questa persona che ormai è arrivato il momento di rinunciare a questo rapporto è chiaro che agirà in maniera prudente perché l'appeso non è la torre quindi non deciderà dall'oggi a domani di allontanarsi da questa donna ma lo farà ovviamente prendendosi tutte le sue tempistiche perché sa che tutto ciò che seguirà sarà un evento particolarmente significativo perché sa che lo sforzo che dovrà compiere ve lo dicevo col 4 di spade e il futuro 5 di spade qualcosa di molto pesante sa che dovrà lavorare molto perché ci sono delle basi solide ancora da costruire ma lo vuole fare quindi tra lui e questa donna ci saranno dei grandi cambiamenti tra di loro ovviamente in negativo i tempi di realizzazione sono un po lunghi però perché vi dicevo che l'appeso è una carta lenta di solito generalmente è una carta che a livello temporale si attesta tra i 5 e 6 mesi quindi entro i prossimi 5 o 6 mesi tra lui e questa donna ci saranno degli sviluppi in negativo per cui ci sarà una pausa un allontanamento proprio pratico per cui decideranno per una futura ovviamente chiusura la carta successiva all'appeso è appunto il tredicesimo arcano maggiore la morte quindi il cambiamento la chiusura del vecchio per aprirsi a qualcosa di completamente nuovo quindi è chiaro che tra di loro la situazione non potrebbe che andare a peggiorare e andrà ovviamente a peggiorare ma ci vorrà del tempo perché nonostante ovviamente in questi prossimi giorni queste due persone non si possano dire in un clima totalmente felice però è anche vero che qui abbiamo una vera e propria presa finalmente direi di posizione tra lui e questa donna d'accordo allora a questo punto possiamo rifare diciamo la stessa tipologia distesa però in riferimento a quello che appunto accadrà e quello che è ovviamente il presente tra lui e ovviamente voi quindi cerchiamo dunque di analizzare il presente cerchiamo dunque di capire gli ostacoli tra di voi come poter superare questi ostacoli quindi un consiglio che viene dato direttamente a voi il prossimo futuro quindi i prossimi giorni tra voi e questa persona e ovviamente un futuro un po' più lontano allora vediamo un po' dunque per il principio di sincronicità che cosa accadrà tra voi e questa persona persona ovviamente nei prossimi giorni in particolar modo che appunto ci parlano di festività festività pasquali allora mi è caduta una carta e io ovviamente la raccolgo anzi tre carte erano cadute allora vediamo un po' dunque che cosa accadrà appunto tra voi e questa persona nei prossimi giorni in particolar modo e perché no ovviamente anche in futuro tenendo conto ovviamente della stesa con la compagna che io ovviamente terrò sul tavolo di stesa in modo che potremmo avere direttamente poi appunto un riscontro immediato della posizione nei confronti di lei e successivamente nei vostri stessi confronti allora vediamo un po' perfetto allora iniziamo dunque dalla prima posizione ossia appunto il momento presente tra voi e questa persona e quest'uomo che state appunto frequentando di nascosto ma che bello allora qui abbiamo mamma mia ragazze allora qui abbiamo il re di coppe quest'uomo è innamorato perso di voi eh che cosa vi dicevo con l'imperatrice allora lui non è soltanto innamorato della vostra bellezza anche perché direi che sarebbe piuttosto riduttivo e non potremmo parlare di amore ma semplicemente di una infatuazione allora in questo caso abbiamo il re di coppe cioè una persona molto innamorata quindi quest'uomo vi farà capire che comunque per voi prova un sentimento un sentimento reale un sentimento d'amore forte un sentimento che lo porta a progettare perché il re di coppe progetta progetta cosa? il futuro ve l'ho detto anche parlando di quest'altro rapporto quindi quello che lui ha in essere con appunto la sua compagna attuale quindi questa è una persona che ha tutte le intenzioni di voler appunto trascorrere e vorrebbe trascorrere i prossimi giorni assieme a voi il re di coppe ci parla ovviamente anche di desiderio fisico quindi è una persona che è disposta anche a vedervi coppe entro pochissimi giorni quindi ve lo dicevo anche con appunto l'imperatrice questa è una persona che ha proprio voglia di vedervi a breve quindi aspettatevi vi ripeto una comunicazione entro pochi giorni proprio ovviamente finalizzata ragazze chiaramente all'incontro d'accordo? quindi è una persona che vorrà vedervi sarà un incontro molto bello ma anche le comunicazioni saranno molto belle perché questa è una persona che vi dimostrerà che prova un reale sentimento per voi è una persona che obiettivamente vuole stare con voi è una persona che ha voglia di costruire qualcosa con voi e sa che obiettivamente a livello empatico vi sta facendo sopportare tanto perché il re di coppe è un uomo che comprende come ci si possa sentire quindi è chiaro che è una persona non egoista non inconsapevole non c'è un re di spade ma è una persona profondamente innamorata di voi e che sa che vi vuole stare al proprio fianco tra l'altro è una persona anche un po' gelosa e anche protettiva perché obiettivamente sa che voi avete bisogno di lui nei momenti anche più duri della vostra esistenza questa persona sa che dovrebbe prestarvi le giuste attenzioni il tempo che voi meritate di ricevere da lui questa persona è consapevole del fatto che obiettivamente vi sta chiedendo tanto ma vi ripeto è una persona che prova un enorme sentimento e che per i sentimenti ha tutte le intenzioni di muoversi e di agire in virtù proprio di questi sentimenti perché parliamo di coppe quindi questa è una persona che sentirete molto più vicina a voi la sentirete stranamente più romantica potrebbe anche farvi delle dichiarazioni potrebbe anche portarvi un dono un piccolo pensiero è una persona che vi dimostrerà che voi siete nei suoi pensieri e soprattutto nel suo cuore che questa è una persona che non vi ha dimenticato che non vi vuole mettere assolutamente tra parentesi ma è una persona che vuole continuare il rapporto con voi su una progettualità che ha tutte le intenzioni di creare quindi vi ripeto è una persona che potrebbe scrivervi a breve per proporvi a breve un incontro o comunque una persona che voi sentirete molto dolce molto presente ovviamente nella vostra vita d'accordo? quindi è una carta molto bella che ovviamente è in netto contrasto con chiaramente l'otto di coppe che è invece appunto la carta che ci parla del rapporto che appunto invece lui ha con la compagna ufficiale d'accordo? allora arriviamo invece in questa posizione ossia appunto gli ostacoli tra voi e quest'uomo nel momento chiaramente presente e qui abbiamo il cavaliere di pentacoli allora il cavaliere di pentacoli potrebbe proprio porci di fronte ad una duplice interpretazione il cavaliere di pentacoli potrebbe rappresentare o un altro uomo quindi per esempio una persona che voi potreste avere al vostro fianco nel caso in cui comunque voi non siate appunto una persona libera o del tutto single oppure potrebbe rappresentare qualcuno che sta mirando a voi e di cui lui magari è a conoscenza o di cui ha comunque sentore cioè questa persona sa che obiettivamente la sua posizione al vostro fianco potrebbe essere pesantemente minata dalla presenza appunto di un terzo uomo che potrebbe rappresentare un rivale una persona direi piuttosto giovane perché i cavalieri generalmente si attestano a livello anagrafico tra i 30 a 35 anni 40 45 anni dunque una persona comunque giovane una persona valida una persona concreta parliamo di denari quindi una persona che comunque agisce seguendo chiaramente un impulso fisico molto importante una persona che quando ha un obiettivo fa di tutto per ottenerlo nonostante magari delle tempistiche ovviamente un po' lente d'accordo quindi nel caso in cui voi siate una persona impegnata il cavaliere di pentacoli è il vostro compagno nel caso in cui voi abbiate qualcuno che comunque sta mirando a voi questa persona potrebbe essere di ostacolo quindi potrebbe essere una persona rivale appunto a quest'uomo proprio perché voi piacete molto a quest'uomo generalmente potrebbe essere più giovane di appunto questo re di coppe d'accordo o comunque una persona magari più immatura ma comunque disposta a conquistarvi quindi è una persona che non lascerà ovviamente andare assolutamente la presa bensì è una persona che farà di tutto per conquistarvi però il cavaliere di pentacoli vi dicevo ha anche un'altra diciamo possibile interpretazione ossia nel caso in cui voi non abbiate un compagno e nel caso non ci sia nessuno interessato a voi o voi non stiate frequentando nessuno il cavaliere di pentacoli rappresenta le tempistiche lunghe e una mancata concretizzazione nell'immediato della sua volontà streno per carità di comunque creare qualcosa di pratico e concreto e tangibile con voi cioè obiettivamente questa persona non riesce ad essere concreta nel realizzare nell'immediato quello che vorrebbe e dunque protrae troppo a lungo i tempi e le tempistiche e dunque questa persona potrebbe attendere ancora troppo tempo prima di realizzare quelli che sono i suoi piani i suoi progetti nei vostri confronti quindi ci può parlare di tempistiche lunghe e di una mancata realizzazione nel momento presente quindi questa persona sa che obiettivamente per riuscire a chiudere con la compagna ufficiale ed iniziare un vero e proprio rapporto con voi le tempistiche sono lunghe ma le tempistiche saranno lunghe vi parlavo dell'appeso quindi ragazzi purtroppo in effetti nel caso in cui il cavaliere di pentacoli non rappresenti un'energia maschile rivale rappresenta vi ripeto delle tempistiche molto lunghe ma saranno molto lunghe queste tempistiche ovviamente questa persona ne è assolutamente conscia cioè questa persona è consapevole del fatto che obiettivamente le tempistiche di realizzazione del vostro rapporto tempistiche ultime ovviamente nel momento in cui voi andrete finalmente o a vivere insieme ad avere un rapporto completo alla luce del sole sono tempistiche piuttosto lunghe e impegnative che chiaramente porteranno ovviamente al successo perché parliamo comunque di un cavaliere di pentacoli che ci parla di successo sì ma è un successo molto lento tra i quattro cavalieri infatti il cavaliere di pentacoli è il più lento d'accordo quindi nel caso in cui non rappresenti un'energia maschile rivale rappresenta delle tempistiche estremamente lunghe e lente ma nella concretizzazione della propria progettualità perché parliamo di pentacoli non nei sentimenti che qui ci sono in pieno ve lo dicevo appunto con questo re di coppe vediamo in questa posizione invece come cercare proprio di risolvere la situazione quindi cercare di superare il più possibile gli ostacoli tra voi e questa persona allora qui abbiamo il tre di pentacoli cercando di collaborare allora chiaramente voi dovreste ovviamente far capire a questa persona che voi siete assolutamente disposte comunque a venirgli fino ad un certo punto ovviamente incontro per quanto riguarda le sue ovviamente difficoltà che sono chiare e pratiche cioè è chiaro che questa è una persona impegnata voi eravate consapevoli del fatto che comunque avreste iniziato appunto una storia una relazione clandestina con una persona ovviamente impegnata di conseguenza vi viene consigliato dagli arcani di chiaramente cercare di far capire a questa persona che voi siete consapevoli a livello concreto pentacoli appunto della situazione che non avete particolare intenzione o appunto intenzionalità in qualche modo di affrettare chiaramente i tempi bensì appunto di portare rispetto a quelle che appunto potrebbero essere proprio le sue necessità ovviamente però ragazze io vi ripeto non facendovi chiaramente schiacciare dalle sue tempistiche cioè d'accordo prestare sicuramente rispetto appunto alle sue necessità ai suoi tempi e a tutto quello che questa persona dovrà andare a sistemare della sua vita con quest'altra donna ma ovviamente cercate di non vivere in funzione di quest'uomo cioè d'accordo andare all'incontro d'accordo collaborare perché ovviamente il 3 di pentacoli ci parla di collaborazione ma ovviamente non si tratta di farsi parcheggiare per giorni e settimane a suo completo piacimento d'accordo quindi va bene assolutamente la collaborazione 3 di pentacoli va bene venire incontro concretamente all'altra persona cioè nel caso in cui non possa lui raggiungere voi cercate in qualche modo di raggiungere voi lui comunque vi ripeto di venire incontro a quelle che possono essere appunto le sue necessità ma ovviamente cercate però anche a questo punto di far capire a questa persona che vi ripeto chiaramente le tempistiche non devono comunque superare un certo limite di sopportazione perché anche voi avete la vostra vita e anche voi avete tutto il diritto di essere felici quindi d'accordo vi ripeto rispettare comunque anche per il momento la presenza dell'altra persona ma chiaramente non fatevi schiacciare dalle necessità di questa persona d'accordo quindi sicuramente ragazzi il 3 di pentacoli ci parla vi ripeto di un clima di collaborazione vi ripeto di andare comunque incontro concretamente all'altra persona se vi chiede comunque per esempio come vi dicevo poco fa di raggiungerlo ovviamente mettetevi in condizione di poterlo se ovviamente potete realmente farlo cercate anche magari di far sentire all'altra persona la vostra presenza al suo fianco vi ripeto cercate di collaborare verso un unico scopo uno scopo comune e cioè quello di poter stare insieme e anche in maniera pratica e concreta tra i di pentacoli perché lui vi ammira vi dicevo prima con la carta dell'imperatrice che vi vede una donna molto concreta molto intelligente ecco mettete a frutto questa vostra intelligenza ma chiaramente non mettete da parte voi stesse d'accordo quindi mi raccomando non annullatevi nel rapporto con questa persona anche perché il 3 di pentacoli ci parla di più comunicazioni ma anche di più conoscenze perché le carte di grado 3 appunto ci parlano di altre conoscenze che possono intervenire potrebbe essere appunto proprio questo cavaliere di pentacoli a rompere un po' la routine e le difficoltà che voi vivete nel contatto con questa persona perché le carte di grado 3 ci rappresentano appunto più comunicazioni con persone anche diverse quindi più conoscenze quindi non chiudetevi unicamente al rapporto con questa persona perché nel caso in cui questo cavaliere di pentacoli non sia un'energia ovviamente maschile ma rappresenti delle tempistiche lunghe che poi vi vengono tra l'altro confermate dall'appeso qui si tratta di aspettare veramente tanti mesi eh di conseguenza mi raccomando cercate comunque di ampliare le vostre conoscenze d'accordo quindi collaborazione sì ma fino ad un certo punto d'accordo vediamo a questo punto in questa posizione invece che cosa accadrà nell'immediato futuro appunto tra voi e quest'uomo quindi ovviamente che cosa accadrà nei prossimi giorni quindi nel futuro più immediato appunto tra voi e quest'uomo quindi nell'ambito delle prossime festività e qui abbiamo il cavaliere di bastoni allora il cavaliere di bastoni ci parla di un incontro o comunque della volontà di un incontro che questa persona vuole ottenere con voi parliamo di bastoni è una persona tratta molto da voi ve lo dicevo con il re di coppe è una persona che ha voglia di potervi incontrare entro pochissimi giorni è una persona che vi desidera e che sa di dover compiere eventualmente uno spostamento per potervi raggiungere perché magari abitate distanti o perché potrebbe come vi dicevo con questo fante di bastoni dover effettuare uno spostamento un piccolo viaggio però questa persona pensa di in qualche modo raggiungervi è un cavaliere di bastoni quindi non parliamo di un incontro imminente quindi non necessariamente vedrete nella giornata di oggi questa persona ma comunque entro i prossimi giorni al massimo entro le prossime settimane ma è un incontro comunque che non avverrà tra mesi d'accordo quindi si sta parlando di qualche giorno qualche settimana al massimo un paio al massimo d'accordo quindi sicuramente è una persona che vi vuole vedere è una persona che vi vuole incontrare è una persona molto appassionata bastoni è una persona focosa che prova un sentimento per voi che però ovviamente a volte viene un po' accecato da questo profondo desiderio che ha per la sua bellissima imperatrice quindi è una persona che sicuramente vi vuole vedere e vi vorrà vedere anche in un ambiente potenzialmente casalingo in un incontro solitario perché il cavaliere di bastoni non ci parla di un incontro per esempio in un luogo generalmente mondano ma è una persona che ha voglia di incontrarvi in un momento romantico in una sorta di teta teta è comunque una persona che vi ripeto ha voglia di vedervi e di incontrarvi a breve a prescindere vi ripeto dalle tempistiche parliamo di un cavaliere di bastoni non di un asso di bastoni quindi non è detto che voi incontriate questa persona entro i prossimi giorni o oggi ma è molto probabile che invece questa persona si faccia sentire entro i prossimi giorni e che vi vediate entro le prossime settimane d'accordo? ma è una persona molto concreta che vuole agire concretamente e che ha intenzione di vedervi d'accordo? però vi ripeto che qui ci sono chiaramente delle difficoltà poiché qui abbiamo in questa posizione un 4 di spade d'accordo? quindi una persona che obiettivamente non ha voglia di stare lì nell'ambiente in cui si dovrà trovare obbligatoriamente quindi in famiglia o comunque con questa donna è una persona che penserà molto a voi che non avrà di certo voglia di festeggiare con lei ma che avrà sempre voi nel proprio cuore nel proprio soprattutto desiderio perché il cavaliere di bastoni ripeto si lascia prendere particolarmente proprio dalla voglia e dal desiderio d'accordo? quindi vi ripeto questa è una persona che sicuramente ha tutte le intenzioni di potervi vedere e di potervi appunto incontrare nel più breve tempo possibile ovviamente a seconda chiaramente delle necessità immediate che ha in questi giorni il sentimento che prova continua a provarlo questa persona desidera voi se la vostra preoccupazione è avrà un contatto fisico con la compagna ufficiale assolutamente no qui abbiamo quattro di spade saranno particolarmente distanti mentre nei vostri confronti questa persona fa pensieri e fantasie di ogni genere d'accordo? perché voi sapete che i bastoni rappresentano l'elemento fallico ovviamente qui abbiamo anche un cavaliere di bastoni che ovviamente rappresenta sicuramente anche proprio la potenza e la virilità d'accordo? quindi questa è una persona che correrà velocemente da voi proprio per potervi vedere e per potervi raggiungere d'accordo? quindi c'è una piena intenzionalità nel vedervi e nel sentirvi d'accordo? quindi state assolutamente tranquille che questa persona con la compagna ufficiale non si divertirà affatto ma avrà sempre voi in mente e di conseguenza vi vorrà vedere al più presto perché qui c'è un incontro e delle comunicazioni ovviamente finalizzate ad un incontro nel breve tempo probabilmente vi ripeto a seguito di uno spostamento di un piccolo viaggio che questa persona dovrà compiere un incontro che sarà sicuramente all'insegna vi ripeto della passione ma una passione molto molto forte d'accordo? vediamo a questo punto il futuro tra voi e questa persona abbiamo detto che qui abbiamo questo appeso tra lui appunto e l'altra compagna vediamo invece appunto che cosa riserva a voi ovviamente il prossimo futuro quindi i prossimi mesi le prossime settimane e qui abbiamo la carta dei due di pentacoli la scelta d'accordo? allora il due di pentacoli ecco perché qua abbiamo l'appeso allora il due di pentacoli ci parla proprio della necessità di effettuare appunto una scelta allora vedete soprattutto questa carta a mio avviso è particolarmente esemplificativa perché vedete i templari stanno mangiando in coppia voi e lui dalla stessa scodella quindi c'è un profondo senso di unione di fratellanza con il simbolo dell'infinito quindi questa è una persona che ha veramente ragazzi intenzione di trascorrere la sua vita con voi è una persona che vuole vedete condividere con voi tutto ma parliamo di un due di denari cioè questa persona deve ancora organizzare come dove quando cioè questa persona ha capito che deve effettuare più presto una scelta e la farà vi ripeto prendendosi proprio quel tempo di cui vi parlavo con la carta dell'appeso lo farà anche per riuscire a capire come potersi muovere per riuscire ovviamente a vivere questa nuova situazione quindi questo cambiamento nel miglior modo possibile il due di denari ci parla proprio vedete di una persona che cercherà di gestire queste due situazioni nel miglior modo possibile mantenendo però la necessità di comunque garantire equilibrio sia al rapporto con voi che anche comunque al rapporto con l'altra persona nel caso soprattutto in cui abbia figli quindi questa persona vuole valutare bene tutti i pro e contro per evitare problemi futuri quindi una sorta di riflessione valutativa però ovviamente mentre con lei ci sarà l'appeso quindi un momento di chiusura e di stasi con voi no perché il due di denari è una carta comunque positiva che parla di vi ripeto organizzazione di collaborazione è una carta positiva che riguarda tutto ciò che è scritto quindi comunicazioni documenti corrispondenza messaggi lettere quindi tutto ciò che obiettivamente riguarda la parola ve lo dicevo con l'imperatrice che per questa persona è fondamentale proprio il rapporto comunicativo e dialogico con voi quindi qui ci saranno molte discussioni nel senso di comunicazioni quindi non nel senso ovviamente di litigi notizie telefonate importanti quindi ci sarà un contrattare diciamo molto positivo tra voi e questa persona per cercare di ovviamente risolvere tutte le problematiche negative che ci potrebbero essere ovviamente tra voi e questa persona dovendo questa persona effettuare una scelta che lui vuole effettuare ovviamente nel modo più indolore possibile soprattutto nel caso in cui abbia dei figli cioè questa è una persona che non vuole creare troppe difficoltà anche al rapporto con l'altra compagna pur lasciandola quindi non vuole inasprire il dopo d'accordo quindi comunque una persona che vuole agire con moderazione con intelligenza proprio in modo da evitare imbarazzi turbamenti inquietudini confusioni il due di denaro è un po' la carta del rischio da calcolare delle trattative delle scelte da compiere successivamente vi ripeto ha delle lettere notizie telefonate cioè tra voi e questa persona mentre con lei c'è una chiusura ce l'ha appeso questa persona invece cercherà molto il vostro aiuto e il vostro consiglio e voi glielo darete per cui riuscirete anche diciamo ad aiutarlo cercando proprio di lenire le sue preoccupazioni e anche di aiutarlo a risolvere delle difficoltà quindi i progetti saranno sempre più importanti concreti e proficui d'accordo? quindi tra di voi tra l'altro vi ripeto ci saranno ancora incontri due di denari uno in particolare il due di denari parla appunto di un incontro in particolare che avverrà in un momento di forte emozione e che potrebbe provocare anche dell'imbarazzo quindi potrebbe esserci un momento in cui questa persona vi rivelerà comunicazioni qualcosa di molto importante che magari non vi ha detto di cui non vi ha parlato sino ad ora e che in qualche modo provocherà in entrambi una forte emozione d'accordo? tra l'altro la carta del due di denari a livello di tempistiche come tempo di realizzazione a grosso modo i giorni che vanno dal 28 aprile al 2 maggio quindi obiettivamente vi ripeto entro pochi giorni voi vedrete questa persona o comunque la sentirete perché questa persona vi desidera particolarmente ma chiaramente è una persona che sicuramente dopo avervi visto vorrà comunque parlare molto con voi anche del vostro stesso futuro in particolar modo in un incontro che vi ripeto sarà fonte di grande emozione anche magari di qualche imbarazzo ma qui è importante la comunicazione con questa persona una comunicazione dialogica forte con forti emozioni ma questa persona vuole valutare bene come poter agire e si troverà finalmente di fronte ad un bivio quindi qui abbiamo due stese totalmente differenti rispetto ovviamente a come questa persona si comporterà d'accordo? ma perché qui abbiamo dei sentimenti totalmente differenti qui partiamo da un uomo innamorato con lei non c'è più nulla di conseguenza nei prossimi giorni questa persona vorrà vedervi e vi ripeto qui c'è proprio un escalation in positivo del vostro rapporto d'accordo? quindi vi ripeto le tempistiche comunque di incontro comunicazione eccetera non sono così lente ovviamente è chiaro che per quanto riguarda invece una presa di posizione un iniziare a parlare proprio di un futuro vi ripeto stiamo parlando grosso modo a tempistiche un po' più lunghe fine di aprile inizio maggio per poi ovviamente avere un escalation negativa entro i prossimi 5 o 6 mesi con la compagna ufficiale d'accordo? allora a questo punto facciamoci dare un ultimo consiglio barra indicazione ovviamente dagli oracoli del cuore di Dorin Virtu e ovviamente sempre per il principio di sincronicità e per chiunque di voi si sia ritrovato appunto in questa stesa e abbia un rapporto una storia segreta e ovviamente nascosta con una persona impegnata cerchiamo dunque di capire per quanto riguarda ovviamente il rapporto con la compagna ufficiale come procederà e poi ovviamente come invece procederà con voi quindi per quanto riguarda ovviamente i prossimi giorni le prossime festività e poi per quanto appunto riguarda la situazione futura quindi non ci soffermiamo ovviamente soltanto appunto a quello che potrebbe essere lo svolgimento di entrambi i rapporti in queste festività pasquali quindi nei prossimi giorni ma cerchiamo anche di capire come invece appunto procederà il vostro rapporto e quello appunto con la compagna anche ovviamente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi facendoci appunto aiutare dagli oracoli degli angeli del cuore di Dorin Virtu dunque estraiamo appunto due carte allora vediamo un po' quindi per quanto riguarda il rapporto con lei per quanto riguarda invece il rapporto appunto con voi allora io ripongo nuovamente il mazzo in questa posizione e dunque possiamo appunto iniziare ad analizzare appunto le prime due carte ossia appunto quelle inerenti al rapporto con appunto la sua compagna ufficiale e qui e qui abbiamo fai attenzione alle bandiere rosse ossia è chiaro che il rapporto con questa donna è e sarà ovviamente sempre contraddistinto da situazioni chiaramente di pericolosità cioè il rapporto con questa donna non è mai stato ve l'ho detto già sin dall'inizio un rapporto contraddistinto ovviamente da rispetto un rapporto contraddistinto appunto da amore un rapporto contraddistinto da verità bensì è sempre stato un rapporto contraddistinto da tradimenti e da menzogne quindi anche molto probabilmente prima vi ripeto di aver conosciuto voi dunque è chiaro che sicuramente quest'uomo vive come vi ripeto anche proprio pericoloso il rapporto che lui ha con questa donna e ovviamente il doversene allontanare di conseguenza c'è ancora qualcosa di cui però secondo me vi parlerà soprattutto in virtù del due di denari qualcosa che lo può in questo momento un po' ancora frenare d'accordo potrebbe essere la presenza di figli d'accordo però in realtà evidentemente c'è proprio anche qualche clausola particolare del rapporto che ha con questa donna in particolar modo nel caso in cui siano sposati per cui appunto è chiaro che questa persona potrebbe ritrovarsi ovviamente in grandi difficoltà d'accordo e di conseguenza vedere dei nemici che rappresentano appunto queste bandiere rosse che possano in qualche modo rendere il suo allontanamento da questa donna ancora un po' pericoloso quindi c'è ancora qualcosa di cui appunto lui si deve occupare vediamo in questa posizione e di fatti qui abbiamo vale la pena di aspettare allora vi ripeto obiettivamente quest'uomo teme un qualcosa nell'ambito del suo rapporto ecco perché l'ha peso ecco perché le tempistiche così lunghe perché chiaramente questa persona in questo momento ragazzi in questi giorni cioè nel momento presente non reputa e non ritiene di dover in qualche modo effettuare un passo avanti che possa in qualche modo in questo momento vi ripeto porre un cambiamento radicale nell'ambito del proprio rapporto cioè sa che deve aspettare e sa che deve aspettare perché in questo momento vedete ancora il sincronismo divino il karma il destino non gli sta dando ancora quegli strumenti che lui reputa adatti per poter effettuare effettivamente un reale cambiamento cioè questa persona in questo momento non si sente ancora adeguata nel poter diciamo in qualche modo chiudere il rapporto con la compagna ufficiale per poter aprire un rapporto definitivo alla luce del sole con voi quindi guardate quanto obiettivamente questa stesa sia straordinariamente ma poi ragazze come tutte le stese assolutamente veritiera cioè come in realtà gli oracoli ci vadano a confermare quello che è stato detto sino ad ora appunto dagli arcani dai tarocchi cioè questa è una persona che ha delle criticità a queste bandiere rosse c'è qualcosa ancora che non gli torna o che deve comunque controllare bene del suo rapporto con la compagna ufficiale e che lui reputa appunto pericoloso quindi che potrebbe essere dannoso per se stesso ma magari anche per voi per il vostro rapporto che deve tenere ancora d'occhio e che quindi gli impone di dover aspettare e attendere il momento giusto perché non è ancora il momento giusto di effettuare tassi falsi vediamo invece a questo punto quello che è il rapporto con voi e qui abbiamo appunto conversazioni sincere ossia questa persona ovviamente vi dovrà parlare che cosa ho detto dall'inizio di questa stesa la comunicazione qui è molto importante l'imperatrice il due di denari questa persona dovrà assolutamente raccontarvi qualcosa c'è qualcosa che deve dirvi in maniera sincera che probabilmente non vi ha mai detto ve l'ho detto con il due di denari qualcosa che magari lo imbarazza e che obiettivamente però permetterà al vostro rapporto di crescere meglio quindi non è sicuramente qualcosa di negativo in riferimento a voi al rapporto con voi è qualcosa che però evidentemente gli sta appesantendo molto l'anima e che potrebbe creare delle difficoltà per quanto riguarda vi ripeto un cambio di partner in questo momento ma solo attraverso delle conversazioni sincere quindi esprimendo onestamente anche i sentimenti che prova per voi ecco l'imbarazzo del due di denari evidentemente la situazione poi prenderà tutto un altro corso evidentemente questa è una persona che non vi ha mai detto che è innamorata di voi o è una persona che evidentemente non vi ha mai parlato dei suoi sentimenti per voi lo farà sarà un momento ovviamente molto forte da un punto di vista emotivo ci sta chiaramente magari non vi ha mai parlato della progettualità che ha nei vostri confronti quando lo farà sarà un momento magari di timidezza di imbarazzo ci sta ragazzi d'accordo però sicuramente è un momento molto importante quindi conversazioni sincere ci saranno e arriveranno a breve tra di voi vediamo questa seconda carta ecco abbiamo immancabile la passione d'accordo quindi ci sarà vi ripeto ve l'ho detto con il cavaliere di bastoni ve lo ripeto anche poi con il due di denari con l'imperatrice con il re di coppe un incontro passionale un incontro molto importante dove questa persona vi farà capire quello che prova per voi che voi ovviamente rappresentate il suo ideale perfetto di donna nel momento in cui finalmente vedete voi sarete tra le sue braccia non gioirà soltanto il corpo ovviamente ma anche il cuore e l'anima quindi ci sarà sicuramente vi dicevo un momento importante un incontro molto importante ve lo dicevo appunto con il due di denari in cui appunto questa persona si esporrà si esporrà più di quanto possa aver mai fatto e obiettivamente lo farà a cui seguirà sicuramente un momento appunto di grande passione ma anche una grande presa di posizione nei vostri confronti quindi sicuramente ragazze questo è un rapporto che richiede molta pazienza da parte vostra questo sicuramente perché al di là degli incontri e delle comunicazioni che abbiamo visto saranno comunque entro breve tempo però obiettivamente questa è sicuramente una persona che vi vuole una persona innamorata da qui ovviamente non ci si muove è una persona chiaramente che ha voglia di cambiare la sua vita che imporranno stop al suo rapporto con la compagna per un cambiamento definitivo ovviamente però in questo ultimo caso con delle tempistiche un po' più lunghe entro ovviamente 5-6 mesi anche qualcosa in più però ovviamente con voi ci sarà sicuramente un bellissimo rapporto che procederà in maniera direi piuttosto positiva nonostante chiaramente i dovuti momenti di allontanamento ma saranno devo dire molto pochi perché qui ci saranno tante comunicazioni e conversazioni che contrariamente a quanto invece accadrà con la compagna ufficiale manterranno molto vivo il vostro rapporto per quanto riguarda ovviamente la domanda iniziale cioè le festività pasquali questa persona le trascorrerà non vedendo l'ora di vedervi e di incontrarvi e comunicando con voi d'accordo di conseguenza come dico sempre tenete duro mi raccomando cercate di vivere queste festività nel miglior modo possibile e ovviamente a presto le trascorrerà e le trascorrerà